Ciao amici di Calciopazzo, sempre qui dal pronto soccorso Manolas Manolas cambia il procuratore e passa a Mino Raiola questo che significa? significa cari amici romanisti fatevi il segno della famose il segno della croce perché tu puoi andare da Raiola per due motivi uno, scucire un rinnovo di contratto vantaggioso e non credo proprio che la Roma in questo momento sia nelle condizioni manco ci ha proprio pensato a un rinnovo vantaggioso per Manolas oppure una cessione vantaggiosa vantaggiosa per tutti per le casse societarie per il giocatore che va a percepire uno stipendio più congruo a quella che è la forza del calciatore e vantaggioso per Raiola che si è via come al solito la stecca quella clamorosa per cui mi dispiace di darvi questa notizia qua sotto Natale però Manolas che passa a Raiola significa che a fine anno ma già lo sapevamo comunque dai c'è una Roma che non si qualifica manco per la Champions come sembra poi il mercato a gennaio c'è magari uno può mettere delle toppe e sistemare le cose la concorrenza non è così agguerita per il quarto posto però io credo che poi Manolas Dzeko questi calciatori con un po' più di espressore se siano stancati devi vedere ogni anno partenze su partenze e quindi metteteve l'anima in pace